Ciao Fero Ciao Come stai? Sono un pulcino Insomma sei un po' un pulcino strano No sei tu strano No non sono io strano io sono una foca Appunto E ragazzi come va? Io sono FeroNiki E io sono Stef e che si giocava Roblox E siamo tornati nella mappa della ricerca alle uova Visto che vi è piaciuto tanto E oltretutto cosa bellissima Abbiamo scoperto che ogni uovo che si trova È indossabile Quindi motivo per cui ce li siamo messi in testa subito È la cosa più bella del mondo Sono Stef la foca e sono strabello Mi dispiace FeroNiki ma sono molto più bello di te No 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 Oggi voglio partire esplorando Il pulcino vince No non vinci Oggi voglio partire esplorando un pochettino Ah comunque buona Pasquetta Perché questo vi riesce a Pasquetta Quindi buona Pasquetta Consolini Speriamo che stiate mangiando tantissimo Tutto quello che vi capita di fronte Uova, cibo, carne Tutto quello che vedete Mangiatelo anche da parte nostra Ti dicevo Oggi voglio partire Ok Esplorando un po' La mappa iniziale Perché secondo me qualche uovo c'è anche da queste parti Eh anche secondo me Ho notato che qua praticamente Adesso io non so perché ci sono due che sono seduti che volano Probabilmente non ci ha caricato tutto Esatto Qui dovrebbe arrivare una mongolfiera dove possiamo salire e che ci porta non so dove Quindi vediamo un pochettino cosa succede in questa mappa e se c'è qualcosa di interessante Scusate c'è posto? Sì Dai un posto l'ho trovato Fere Sì 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 Siediti Mi sono seduta Poi se gli altri non sono seduti Ti vedo Ferma Ah anch'io lo stesso Ah ok Forse è un bug Sì Spero che poi atterreremo assieme Allora io non so se la mongolfiera si ferma proprio sull'isola Ma il nostro obiettivo è andare in quell'isolotto lì minuscolo Lo vedete? Quindi dobbiamo cercare un modo di andarci Perché lì dovrebbe esserci un robotino Che ci dovrebbe teoricamente Regalare un uovo Quindi vediamo se ce la facciamo Ah ma guarda Però c'è anche un isolotto qua Aspetta C'è una torre altissima lì in fondo Che sembra strabella Che bisogna capire che cosa potrebbe essere E non lo so Vediamo dove ci porta Perché è sicuramente Non idea C'è pure un aeroplanino che va in giro Fantastico Si sta atterrando Fere Guarda Siamo atterrati nell'isola dove ci sono gli aeroplanini Scendi 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 Così ti vedo Eccomi 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 Ok vediamo un pochettino Buongiorno 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 Scusi possiamo prendere uno dei aeroplanini Fere Fere Sta volando Fere Oh mio dio che stai combinando Sta volando Sta volando Fere Ci sono dei cerchi in giro Eeeh È difficilissimo Ah penso che devi prendere i cerchi Così poi lei ti dà un uovo Perché lei parla di un uovo che ha trovato Mi sta avendo brutta voglia guidando sta roba Ma Io sto ancora aspettando il mio aeroplano Ma È complicatissimo Io sto guidando a testa in giù Non mi stupisce Perché i comandi non sono molto comprensibili Se non riesco a guidare io Immagino come sei messo a tu Non sono comprensibili i comandi Ma poi quando tu passi su un cerchio Non ci sei mai riuscita Sì uno l'ho fatto Te l'ha preso? Sì Davvero? Cioè scomparso? Fatto Guarda che bellino È fantastico Oh yes Guarda quando ho smesso di parlare Sono riuscito a fare tutti i cerchi Uno dopo l'altro E stavo guidando benissimo Lo so che nessuno ci crederà Quindi metterò una parte velocizzata Dove si vede Tutta la mia impresa meravigliosa Io mi sono schiantata Allora Lo sappiamo Non c'è Guarda non c'è neanche bisogno di vedere il tuo schermo Per sapere certe cose Allora ti spiego Ho fatto quell'uovo Dopodiché Ne ho approfittato con l'aeroplanino Per atterrare in questo isolotto qua Dove c'è un tizio che mi parla Vediamo un pochettino cosa mi dice Allora Il mio nome è Stunt Designer Ma questo Mi conosce su GTA E vuole fare gli stunt come è? No Spero di no Spero di no Ah no ok È il graphic designer della mappa Quindi è quello che ha disegnato la mappa Quindi non vuole collaborare con te per fortuna Allora Io non so perché nel primo video Non abbiamo fatto la zona centrale Allora dobbiamo usare un cannone E mirare Vedi quei palloncini Eh sì li vedo certo Credo che se colpiamo quella roba lì ci dà un uovo Ok Come posso iniziare? Devi aspettare perché c'è qualcuno già dentro il cannone Non toglietevi Quindi appena ti compare il tasto lo premi Complicatissimo Vai Fede Vai Fede che lo colpisci Così in alto Vai Ok Cavolo l'ho sfiorato Dammi un feedback È difficile È molto strano Ok Vedi come lo devi muovere È molto particolare Ma miro perfetto Come se dovessi colpirlo Allora io ho mirato proprio i palloncini Ok Ok E proprio gli ho sfiorati Quindi secondo me se miro i palloncini in modo perfetto Riesci a prenderli Ce la faccio Ce la faccio 3, 2, 1 Fuoco Dove sei finita? No non ci credo Ah eccoti ciao Cioè Anch'io Uguale 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 pochissimo Non è possibile Io ci riprovo Fede ci tocca fare un sacco di scale Non è parkour mi sa Come? Guarda Vabbè vanno bene anche le scale Guarda le scale Che mi dai un uovo Non sono sicuro che ci darà un uovo Fede Rischiamo di fare scale per nulla Scusa deve aver senso questa cosa Altrimenti Fede non ne sono sicura Altrimenti è inutile Non lo so Fede E c'è l'uovo Ok per fortuna Allora come si chiama questo? Top of the world Che bellino Sembra un angiolo È un mondo con le nuvole È troppo bellino Oggi ne abbiamo fatto due per ora Io ho uno Tu ho due Ok 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 Non è male non è male Soprattutto perché ne ho uno in più io Eh vai buttiamoci di sotto Aia Ah Mi ha dato un altro uovo E questo è la cosa più carina del mondo Dove? Io mi son buttato giù Ma in che punto? Un punto a caso No me lo devi dire Dove ti sei lanciato? Un punto Allora sei lì giù Cioè tu ti sei lanciata? Sì E non ti è dato nulla? No Salve Vorrei un whisky Fede Me lo può dare? È pieno giorno Sì aspetta no Ho detto che mi può servire Aspetta aspetta Fede Ma lui è il robotino Teoricamente il robot dovrebbe regalarci un uovo E tu con solino che stai guardando Se mi trovi carino Metti un like Arriviamo a 2500 Fede dove ci siamo cacciati? Me lo spieghi? Nel deserto Nel deserto Che cosa? Vabbè era l'unica mappa che ci mancava da vedere No ce ne manca anche un'altra in realtà Ah davvero? Sì Tantissime Allora però il deserto è un po' stiaccio Guarda qua Guarda Mi ha beccato una tempesta di sabbia Cose che succedono Grazie alla tempesta di sabbia ho notato che qua c'è un fosso Vieni 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 Dove? Vieni 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 Io stavo andando in quelle capanne a vedere se c'è qualcosa No vedi? E qui c'è secondo me già subito un uovo Ma qua facciamo gli Indiana Jones Vai Fede Dai che ne troviamo uno Match the symbol on the left Quindi dobbiamo unire Ok Praticamente non posso colpire le figure rosse E devo arrivare alla figura indicata lì alla sinistra Ah ok pure io Premo invio Ok Allora a questo punto i due gemellini che sono qua Ora si fa un po' più difficile Questo Sì Ok Questo che fortuna Ho capito Ho fatto? Aspetta arriva 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 Ma che bellino È carino Egg of Ra Il di egizio Che bellino No ma me lo levo Perché me lo levi? Non l'ho capito perché c'è quel bug Lo stava facendo tutto il tempo anche a me E a un certo punto ce l'ho fatta Io sono a quattro uova Bene così Ottimo Stanno andando bene la caccia di oggi Ma che posto misterioso Oh no è bello Guarda mi rimangio tutto è bellissimo C'è un bottone C'è un tipo con cui parlare che ci spiegherebbe cosa succede ma premiamolo Premiamolo Vediamo Che stiamo combinando Oh no Oh no Oh no Oh no Questo è il parkour Ecco te l'avevi Andiamo 120 secondi No ma siete pat Ma 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 corri Fer Siete pat Corri Fer Ma come si può? Dobbiamo partire da qua Sali Veloce 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 Concentrata Concentrata Allora partiamo subito salendo lì sopra Poi non so cosa bisogna fare Ma dobbiamo stare attenti a non cadere Ok ci siamo Ok A questo punto credo da questa parte Eh sì Sì vabbè Non vedo altre strade Ora c'è la serpentina Allora Piano 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 È abbastanza larga quindi Dovrebbe essere abbastanza semplice farcela Sì ma è una sorta di labirinto pure? Sì O devi seguire solo una No 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 Ci sono più strade Ci sono più strade Segui Steph però Va a sentimento di solito le azzecca Ma tu non sei bravo nei labirinti Scendiamo Saliamo Tu fidati di Steph Fidati di Steph Dove dobbiamo finire? Ok L'ho azzeccata Uh bravo Un po' di parkour con un po' di salti Che non possiamo permetterci di sbagliare Dopodiché Non so Cosa dobbiamo fare Ok È stata abbastanza semplice What? Sono caduta Seriously? Seriously? Dobbiamo fare un parkour Su una cosa che ne è mentre rotte Non aggiungo altro Ferre non mi abbandonare Arrivo arrivo No ci sono No cos'è questa cosa che è rotta? Devi farli tutti di fila Ok ho capito Fino ad arrivare alla cima Io le odio ste cose Non lo volevo fare Mi sta facendo venire mal di testa Accidentale E poi le uova Sono caduto Non ci posso credere 18 secondi Non ci posso credere No dai Non faccio il tempo 75 secondi E sono praticamente già la giostra Se non ce la faccio stavolta Mi ritiro E mi arrendo Vado proprio in un monte A fare il Buddha E mi ritiro per sempre Allora 3 2 1 Via 1 2 3 4 5 6 7 8 Bene così No ma dai Proprio nell'ultimo Perché lì È un po' pagato E non mi fa saltare Lo so Lo spacco sto gioco Lo so È capitato anche a me Lo so Dimmi che ce la faccio Ok Ok 30 secondi 30 secondi per camminare Ce la fai Ce la dovrei fare Ce la dovrei fare Ce la dovrei fare Ce la fai Corri salamino Guarda è un salame Sto personaggio correndo Un po' più veloce Per favore Ok Ce l'ho fatta Andazza Guarda come minimo Deve essere bellissimo Fammi vedere un po' Ah è una clessidra Perché era a tempo Ah beh Sì ha senso Ha senso The sand of time Questo è il mio sesto O il quinto Fere Fere No l'ho visto C'è uno squadro Fatto di sabbia Vado a pestarlo Aspetta Fere Fere No vado Non credo sia una buona idea Vado a pestarlo Fere Fere Non credo che sia Una buona idea No non è una buona idea No mi hai fatto far sparare però dall'inizio Allora Io credo Che per riuscire a superare Questa zona Dove si troverà L'ultimo uovo Che Steph vuole Bisogna utilizzare Il cervello Bisogna spremere le meningi E pensare a qualcosa di buono Quindi Secondo me Devo fare così Pratico Vedi che ci sono delle rocce A ogni tot Sì vabbè Adesso non le vedo Quindi aspetta Ok vabbè Ci sono delle rocce A ogni tot Si sale sopra quelle In questo modo lo squalo ti lascia in pace Quindi adesso che lui è molto lontano Io riparto a correre Secondo me devo salire qua Appena si riallontana Vado dritto Sì 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 E spero che sia lì Appena ti vede ti mangia Te lo dico Appena ti vede Quello l'ho già visto Grazie Mi hai fatto scoprire esattamente Vabbè però non eri sicuro Bene No sì Mi hai tolto i dubbi Mi hai tolto i dubbi Sei stata molto gentile Generosa Ti sei sacrificata Per tutti noi Sono in un tunnel strano E non so dove sto andando a finire Però è un gran bel posto Ti dico C'è addirittura del verde Che trovare dell'erba Nel deserto È una cosa rarissima È anche molto bello C'è un punticello Una cascata Ferro c'è una cascata Oh che bello Guarda guarda Io sono entrato Perché si entra da soli Che cosa brutta Ferro c'è una mummia che mi insegue Ferro Aiuto Guarda l'arrabbiatissimo Cerca di capire cosa devi fare La devi uccidere vero Devo accendere La torcia Le torce Ah e poi mettere del Oh mamma mia Capito? Più o meno Devo prendere tipo il colore verde E accendere le cose verdi Ok E credo che mettendo fuoco a tutto Riesci poi Ah certo Perché la faccio bruciacchiare la mumietta Giustamente Ma che bella sta battaglia È inutile che stia a premere Credo che fin quando non finisco io Capito? Io lo premo lo stesso per prendermi il posto Non puoi Non puoi Allora Prendo il rosso Ok La mummia si sta incastrando Almeno ne posso approfittare Faccio rosso Mi prendo al volo anche il giallo Dato che la mummia Si è mezzo incastrata Vediamo se brucia già da adesso No 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 Ancora no Quindi devo mettere fuoco a tutto 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 Eh sì Probabilmente devi fare proprio il cerchio di fuoco Continua a correre intorno Mummia non mi seguire Lascia mi pace Fatto? E adesso Vai al centro Vai al centro Ma neanche brucio io No non dovresti Non puoi andarci? No Perché ho detto Magari vai al centro E lei si brucia Ho sbagliato qualcosa Mi sa vero? Dici Si è spento tutto E adesso? Mi sa che io dovevo incastrarla dentro Spero che si esce così Se ci piace ci be like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie per la visione!